Adesso vi faccio vedere il pungitopo, Ruscus aculeatus, della famiglia delle asparagacee. Il Ruscus, il pungitopo, è una delle tante piante i cui turioni, quindi i germogli giovani, i getti giovani della pianta, vengono chiamati asparagi. Perché con asparago, in italiano, si intendono i germogli di diverse piante. Vengono chiamati asparagi anche i turioni del Ruscus, che si presentano in questo modo. Sono particolarmente amari. Vi ricordo però che il Ruscus aculeatus è una pianta protetta, quindi assolutamente non si possono raccogliere. Qua sono nell'orto di mia nonna e quindi se io voglio mangiarmi dei germogli di Ruscus, eventualmente potrei raccogliere quelli nell'orto. Però spesso, se si trovano in commercio, derivano da piante che vengono coltivate. Mai spontanee, perché quelle a livello, allo stato spontaneo, sono protette. Mi raccomando, i turioni poi si lasciati sviluppare, come qua, se non vengono raccolti, non vengono mangiati, poi si ramificheranno e daranno luogo a nuove piante. Vedete che qua si nota già la struttura della pianta. Cosa c'è da dire sul Ruscus? Il Ruscus è una pianta dioica, quindi esistono piante che portano fiori femminili e fiori maschili e le bacche vengono sviluppate solo dalle piante femmine, le tipiche bacche rosse. Questi qua, che chiamiamo foglie, non sono foglie, ma è una parte del fusto modificato che assume questo aspetto di foglia. Si chiamano infatti cladodi, sono molto coriacei, molto duri e finiscono, terminano con un mucrone molto appuntito. Qua si vede, qua erano presenti i fiori che adesso non ci sono più, perché siamo avanti, non è più periodo di fioritura. Che altro c'è da dire? Il Ruscus è una pianta particolarmente utilizzata in fitoterapia, soprattutto la radice, perché contiene delle sostanze che sono ottime, hanno delle ottime proprietà sul sistema vascolare. Eccolo qua, quindi. Guardate qua un altro germoglio che ormai è diventato una pianta. Ecco, in questo stadio non è più possibile mangiarlo. Il sapore è particolarmente amaro, però ripeto, è una pianta protetta, quindi assolutamente da non raccogliere allo stato spontaneo.